ciao a tutti ragazzi sono orcuverde in questo video volevo informarvi riguardo il possibile ritorno della skin cool trooper nel negozio oggetti prima di iniziare vi invito tutti quanti a condividere il video poi a lasciare un bel pollice in su bomba e seguirmi sui social trovate tutti i link nella descrizione e iniziamo subito come sicuramente ci avrete fatto caso la skin cool trooper quest'anno non è stata rilasciata nel negozio oggetti a differenza di due skin che fino a qualche mese fa erano skin rare disponibili per l'acquisto nel negozio oggetti della modalità battaglia reale una sola volta e poi sono state nuovamente disponibili per l'acquisto nel negozio oggetti nei mesi successivi ovvero la skin cavaliere rosso la skin accordo potente quella con la chitarra e la skin school trooper lo scheletro un dataminer poco fa sul proprio accanto twitter ha pubblicato questa immagine sul possibile giorno di rilascio della skin cool trooper la skin cavaliere rosso è stata disponibile per l'acquisto nei negozi oggetti della modalità battaglia reale di fortnite per la seconda volta l'8 8 2018 ovvero l'8 agosto 2018 la skin accordo potente il 9 9 2018 ovvero il 9 settembre 2018 la skin school trooper ovvero lo scheletro il 10 10 2018 ovvero il 10 novembre 2018 la skin cool trooper potrebbe essere disponibile per l'acquisto nel negozio oggetti secondo questa teoria l'11 11 2018 ovvero l'11 novembre 2018 praticamente tra pochissimi giorni se questa teoria sarà vera tra pochissimi giorni nel negozio oggetti della modalità battaglia reale di fortnite sarà nuovamente disponibile per l'acquisto per la seconda volta la skin cool trooper nel negozio oggetti fatemi sapere che cosa ne pensate voi riguardo ciò nei commenti sotto a questo video se ci saranno altre notizie novità e informazioni come sempre ve le porterò nel canale quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollicione in su un commento iscrivetevi al canale condividete il video poi seguitemi sui social trovate tutti i link dei miei social nella descrizione e da orco verde tutta noi ci andiamo al prossimo video bella